Buongiorno, siamo qui per presentare il Master in Medicina, Istituzioni e Società dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Io sono Francesco Valagus e qui con me ci sono il Professor Furlan e il Professor Ferini Strandi. È un Master Interfacoltà che si propone di creare uno spazio di dialogo tra varie discipline in cui i problemi vengono analizzati da punti di vista differenti. Dal punto di vista del medico e del ricercatore questa è sicuramente una fase di transizione tra un'epoca in cui la medicina cosiddetta scientifica ha cercato di creare evidenze sperimentali per tutti i suoi interventi terapeutici che richiedevano quindi grandi sperimentazioni su grandi popolazioni a una medicina di precisione cosiddetta personalizzata come si dice oggi dove invece c'è un atteggiamento sartoriale e quindi la necessità di acquisire nozioni, competenze che non sono solo estrettamente dell'ambito medico e di ricerca. Chi seguirà questo Master avrà la possibilità di partire da quella che è la valutazione dell'individuo, di quelle che sono le esigenze dell'individuo, di quelle che sono gli assetti ad esempio anche sul piano psicologico dell'individuo per arrivare poi a estrapolare anche quelle che possono essere delle indicazioni importanti per tutta la comunità. Si va anche a considerare quelle che possono essere le varie correlazioni sia a livello individuale, sia a livello strutturale, sia a livello politico, sia a livello economico, quindi sicuramente questo è l'aspetto più interessante. Questo Master è stato pensato qui a San Raffaele perché anni ormai la facoltà di medicina, di psicologia, di filosofia dialogano tra di loro e quindi abbiamo acquisito anche una certa dimestichezza nel mettere insieme una serie di tematiche e gestirle da vari punti di vista, da varie prospettive. Non esiste un'altra università che abbia un'esperienza così grande nello sviluppo di terapie innovative e anche di terapie che hanno raggiunto il mercato e questo offre l'opportunità a chi parteciperà al Master di avere esempi concreti, di poter fare stagi in laboratori, di toccare con mano e non soltanto sulla teoria questo tipo di problematiche. Grazie a questo Master si riuscirà anche a entrare nel vivo in quelli che sono appunto la vita reale che conduciamo nei nostri laboratori ogni giorno. Vi aspettiamo al San Raffaele per cominciare questo Master in Medicina, Istituzioni e Società.